Gianluigi Bartolini, Project Manager di Usio. Oggi in Green Parlor per il Repair Day Contest. Perché Usio e cosa ne pensate di questa esperienza? Usio è qua oggi perché si inserisce a titolo pieno sul mercato italiano per quanto riguarda la Green Economy e Circular Economy. Si fa un gran parlare di questa esigenza, di questa necessità di ridurre il numero di rifiuti tecnologici, ma ben poco si fa in concreto. Questo evento, come altri, è molto importante per sensibilizzare le persone e il pubblico rispetto a quanto è importante riutilizzare e riciclare apparecchiature che altrimenti andrebbero destinate alle discariche. Cosa è Usio e di cosa vi occupate? La nostra è una app che permette la compravendita di smartphone usati. Attraverso pochi semplici passaggi è possibile classificare il proprio telefono oppure comprarne uno usato già presente sulla nostra piattaforma. Le nostre parole d'ordine sono convenienza, sostenibilità e sicurezza. Queste vengono appunto date dal fatto che i nostri prezzi sono calcolati da un'intelligenza artificiale che permette il miglior prezzo sia per il compratore che per il venditore. Sostenibilità perché abbiamo comunque un ciclo di vendita e di acquisto ridotto per quanto riguarda l'utilizzo di materie prime. E sicurezza perché tutti i telefoni che arrivano, tutti gli smartphone che arrivano o che sono presenti sulla nostra app vengono testati, controllati e quindi poi consegnati ai compratori. Come rappresentante di Usio qua oggi al Repair Contest vi invito a seguirci e a scaricare la nostra app sia su Google Play che App Store per scoprire un modo nuovo per comprare smartphone usati. Grazie a tutti!